Il livello di l'Apia Il livello di Luscia Il livello di Luscia E' il livello di Luscia Sì, se li vedi Con l'Apia Sì, se li vedi Santa Lucia Volo A Santa Lucia tutto è fospicina allora ragazzi ci troviamo in un ristorante straordinario si chiama pizza santa adesso vi faccio vedere allora e quindi ci troviamo a questo bellissimo ristorante non molto distante da casa nostra sarebbe questo ristorante famosissimo la sera dovete prenotare perché altrimenti non trovate posto perché è buonissimo e quindi sembra che vuole uscire un po il sole quindi può darsi che restiamo qui per tutto il weekend a più tardi la che è che c'è? mulle? la merda e si maradona, pizza maradona rio di pasta, com'è la pasta? è troppo cotta ma è buona il calamarco oh 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 ti sta cadendo le scaloppo è gris, è scalopo immagino che sia caduto anche il succo la cosa è andorata mmm ecco la pasta la cosa è andorata la cosa è andorata? a vendere che cosa è? un negozio? allora arriviamo adesso a cattare la cazzina non dovrò parlare? tutto quanto? ah sì, è vero Autore dei sovrapposti